Ciao, oggi faremo un video bellissimo che mi avete chiesto in tantissimi. Vi faremo vedere i passaggi del nostro potenziamento. Pronte? Sdraiate. Allora, da sdraiate in questa posizione, punte dure, braccia dure, dita delle mani unite. Da adesso, 30 secondi. Via. Di chiusure, toccando bene le calze. Dita delle mani dure, che per 30 secondi toccano i piedi, libricini. Brave. Ancora 15 secondi. Dai, 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 un po' più ritmo. Brave, così. E adesso, cambio, sforbiciatine. Dita delle mani sempre unite, gambe dure. Le spalle salgono e scendono. Ferma la testa. Dai, lo compio ritmo. E... Cambio. Piego, piego e stendo. Stendere completamente le gambe. Per 15 secondi. Questo esercizio si fa senza pausa. per un minuto. E stop. Straiate. Cambiamo. Pancia in giù. Dita delle mani dure. Punte dei piedi tirate. Sollevate i pollici. E via. Per 20 secondi, su e giù, con le braccia. Cerchiamo di allineare le braccia alle spalle. Sì. Le braccia alla schiena. Sempre ferma la testa. Devi salire un po' di più Martina, un po' di più Camilla. Bene, cambio. Sollevare bene le gambe. Apro e chiudo. Ginocchia tesissime. Sempre per 20 secondi. E anche questo è di seguito. C'è la pausa a un minuto. Cambio. Altro elemento. Barchetta. Dondolino. Chiamatelo come volete. Le ginocchia strette. Braccia dure. Dita delle mani dure. Che guardano il pavimento. E stop. Cambio. Passiamo ancora un esercizio per gli addominali. Staccare bene i talloni. Gambe tiratissime. Pronte. Via. Incrocio le braccia. E sollevo solo le prime 10-15 vertebre. In questo esercizio cercate di staccare i talloni. Brava Martina. Brave. Dai, Ire. Siamo quasi alla fine. Cambio. E gambe. Per 20 secondi. Bravissime. Questo esercizio è molto difficile. Mi raccomando quando lo fate che la schiena tocca completamente terra. Cambio. Altri 20 secondi. Nuovo esercizio. Anche da questa parte. Dondolino. Bravissime. Qua gli addominali cominceranno a bruciare tantissimo. Fa niente. Non mollate. Resistete. Bravissime. Cambio. Esercizio nuovo. Sui gomiti. Via. Posizione di plank. Schiena dritta. Testa dritta. Per 30 secondi. Bravissime. Perfetto. Bravissime. Non bastare la testa. Mancano 5 secondi. E prossimo esercizio. Via. Solleviamo una gamba. Mi raccomando. Il bacino deve rimanere dritto. Che guarda il pavimento. Camieire. Portate un po' di più le spalle sopra i gomiti. Brave. Bacino bene dritto. Perché alzando la gamba è facile girare il bacino. Invece no. Bacino dritto. Cambiamo gamba. 20 secondi sono passati. Portare bene le spalle sopra le mani. Bravissime. Dai dai. Resistere. Qua brucerà tutto. Più brucia più fa bene. Più fate bene agli attrezzi. Più avete il fisico pronto per la prova costume. Stop. Stop. Ok. Subito l'elemento successivo. L'esercizio successivo. E dieci volte laterale. Drittissime. Non avanti. Brave. Dieci e dieci. A questo punto abbiamo un altro esercizio per gli addominali. Via. 20 secondi per esercizio. Sempre di fila. Si finisce a un minuto. Sollevo le spalle. E destra e sinistra le gambe. Brava. Cambio. Gambe piegate. A 90 gradi. E ginocchia prima a destra e poi a sinistra. Quando vado a destra giro la testa dalla parte opposta. E quando vado a sinistra giro la testa a destra. Stop. Cambio. Sforbiciatine. Sempre sollevando un po' le spalle. La schiena è assolutamente appoggiata a terra come vedete. Bravissime. Stop. E concludiamo la sequenza del potenziamento con dieci piegamenti sulle braccia. Ok? Vi do un'informazione sul piegamento. Vai giù in piegamento. Giù giù. Appoggia le ginocchia. Per impararlo perfettamente. Sdraiata bene per terra. In questa posizione. Spingete con le braccia. E pensate che la prima cosa che deve salire è l'ombelico. L'ultima cosa che deve scendere è l'ombelico. Brava. Gomiti stretti. Quando così lo fate perfettamente. Loro fatelo con le gambe tese. Va bene? Bene. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto. Iscrivetevi al canale. Lasciate tanti like. E ricordatevi di attivare la campanella per le notifiche dei nostri nuovi video. Ciao. Ciao. Ciao.